Tutto il mondo è un palcoscenico e uomini e donne sono soltanto attori, hanno le loro uscite e le loro entrate e nella vita ognuno recita molte parti. Le 20.33 TGTG sale su questo palcoscenico del mondo della vita per cercare di informarvi, di darvi le ultime notizie, ma non solo, ve l'ho detto poco fa, cercheremo di capire se si può leggere questa realtà attraverso un'altra realtà in particolare. Vi presento subito il nostro ospite, Giuseppe Pambieri. Buonasera a tutti. Buonasera, benvenuto. Dunque, volto conosciuto a tutti quanti. Allora, prima di entrare nelle notizie, in questo magma di notizie del giorno e non solo, vediamo cosa ci propongono i telegiornali. Ho riconosciuto Giulio solo dalla punta del naso. I genitori del ricercatore ucciso al Cairo chiedono giustizia, torture da nazi fascisti. Reggeni parla alla famiglia. Sul viso di Giulio abbiamo visto i mali del mondo. Ha subito torture come dai nazi fascisti. Serve una risposta forte dell'Italia. E domani al Tribunale dell'AIA, all'arbitrato sul caso dei due Marocchi, rischia di trascinarsi fino al 2018. Parlano i genitori di Giulio Reggeni. La madre, mio figlio ucciso dalle torture, ha subito un trattamento da nazi fascisti. Il suo viso è riconoscibile solo dal naso. Ho riconosciuto Giulio solo dal naso. Sul suo volto ho sfigurato tutto il dolore del mondo. Parla alla mamma del ragazzo italiano torturato e ucciso in Egitto. Il nostro governo deve agire, dice. E chiede di sapere la verità anche da vedova di uno dei tecnici rapiti e ammazzati in Libia. Con noi nessuno si è fatto più vivo. Di lui ho riconosciuto solo il naso. Sul suo viso c'era tutto il mare del mondo. E ancora mi domando perché. La mamma di Giulio Reggeni. Emergono nuove incredibili falle dell'intelligence belga che era stata avvertita dagli olandesi cinque giorni prima degli attentati di Bruxelles delle possibili azioni dei fratelli Bacroai. Allora, cominciamo da quella che da molti è stata definita la barzelletta perché questa storia belga, malgrado il dolore, malgrado il dramma, comunque è una sorta di barzelletta perché è stato rimesso in libertà ma le accuse non sono state tolte sostanzialmente dal presunto giornalista. Quindi non so. Questa mi sembra la notizia... Non ho capito bene la notizia del Belgio perché è stato scarcerato ma su di lui pesano ancora dei grandi sospetti. Sì, questo reporter freelance eccetera. La falla... Evidentemente, molto probabilmente non era lui. Certo che comunque sicuramente delle vicinanze l'aveva con questi altri ragazzi che facevano parte del gruppo. Ecco, e poi il tritico di notizie purtroppo è questo. Nel senso abbiamo il ricercatore italiano, oggi c'è stata la conferenza stampa con i genitori, questo è un dramma al quale qualcuno, come il TG5, ha associato la vicenda dei due marodi cui gran parte dell'Italia forse si è dimenticata. Insomma, sono due casi... Ma questa cosa di Regeni è terrificante. Insomma, è una cosa veramente spaventosa perché guai, dobbiamo arrivare a una verità assolutamente perché chiaramente se si cerca di insabbiare come sta facendo l'Egitto sarebbe gravissimo. Gravissimo perché dobbiamo assolutamente arrivare a una verità. Si aprirebbe un vulnus terrificante su questa cosa. Facciamo un passo indietro, un passo indietro mostruoso perché andiamo al 29 marzo del 1516 allorché il Senato veneziano decretò che tutti i giudei debbano abitare uniti, vale a dire il Ghetto di Venezia. Quindi 500 anni dell'apertura del Ghetto di Venezia e una clip con delle immagini che in qualche modo la riguardano. Vediamo. Bene, questo era il ricordo dei 500 anni con Venezia, del Ghetto, eccetera. Adesso andiamo sul nostro focus, cioè sul mercante di Venezia. Eccolo qui. Io dovrei prestare a voi il mio denaro. Sentire un applauso e poi in cui l'immensa genia, sarsene, vuota, sentire il pubblico rispecchiarsi e accendersi e animarsi in totale partecipazione. Mi hai insultato. Hai il riso dei miei guadagni, il riso dei miei perdite. Hai ingiuriato il mio popolo, impedito i miei affari, hai allontanato gli amici, hai zati i nemici. E tutto questo perché? Perché sono ebreo. Non ha occhi, non è bello. Non ha mani, non è bello. Dimensioni, sensi, affetti, passioni. Non mangia lo stesso cibo, non è ferito dalle stesse armi, non è soggetto alle stesse malattie, non guarisce con le stesse cure, non sente il freddo dallo stesso inverno e il caldo dell'estate, come un cristiano. Se ci impuggete, non sanguiniamo? Se ci avvelenate, non moriamo? E se ci offendete, non dovremmo vendicarci? Come voi? Mi sottolineava con applausi sgrascianti ogni mia battuta, gli attori incuriositi dal gran rumore, corso nel parco scenico a spiare dalle quinte. Tutta la platea mi risaltava, applaudivano tutti. Questo è tratto dalla storia della vita di Keane. Perché ci rappresenta questo oggi in che modo, secondo lei? Cosa si rappresenta? Questo Keane? No, adesso questo no, l'ho fatto tre anni fa. No, rappresenta la nostra realtà che viviamo in qualche modo. Che sfaccettature delle nostre... Certo, dentro ci sono dei problemi molto grossi, fondamentali. Ecco, per esempio, qui si è discusso molto sul fatto se Shakespeare era, diciamo, pro-ebrei o contro gli ebrei, se il personaggio di Shylock era negativo o positivo. Sicuramente oggi, facendolo, affrontandolo oggi, io l'ho fatto anche lo spettacolo proprio mercante di Venezia, questo è un tratto proprio dalla vita di Keane. Ma io l'ho proprio fatto, Shylock, e sicuramente oggi la simpatia va per questo. Anche se... Perché allora lui era, diciamo, preso di mira da tutti, era la banca di Venezia. È chiaro che aveva un'importanza fondamentale, poi spesso lo si dipinge vecchio, eccetera. Invece lui era un uomo molto forte, importante, e insomma andavano lì per chiedere dei soldi. Potremmo spostare l'attenzione dal fatto che era ebreo a quello che rappresentava le banche, invece, che forse è più attuale. È molto attuale in questo senso. E chiaramente lì si innesta il problema razziale, che era sentito anche allora, anche in quegli anni lì. E sicuramente viene fuori, io nella mia interpretazione, quando lo feci proprio Shylock a Verona, e venne fuori proprio in questo monologo tremendo in cui diceva che un ebreo è come voi. Ecco, questo è il problema, no? E quindi il fatto razziale, questo è fondamentale, importante, lo vediamo, ripercosso oggi, dovunque, no? Il problema dell'emigrazione, il problema del diverso... Esattamente. ...che entra in casa nostra e dobbiamo cercare di capirlo, dobbiamo cercare di accettarlo. La interrompo in questo vai e vieni che faremo con il presente, è il passato, perché andiamo a vedere qualche altro titolo di oggi, dei telegiornali. Vediamo che spunti ci offre. Paura su un volo egiziano, un uomo minaccia di farsi saltare in aria, è dirotta l'aereo a Cipro, chiede della ex moglie, poi si arrende, la cintura esplosiva era falsa, tutti salvi i passeggeri, fra gli ostaggi anche un italiano. Una mattinata di terrore, un aereo di linea dell'Egitto è stato dirottato a Cipro, a bordo 81 persone, fra cui un italiano, si temeva che l'uomo fosse armato, invece aveva soltanto una finta cintura esplosiva e quando si è arreso ha detto sono venuto qui perché dovevo incontrare la mia ex moglie, è stato arrestato. Il 5 aprile, incontro tra la polizia italiana ed egiziana, se non ci saranno novità, la famiglia chiede al governo una risposta forte, illegale, temiamo dei testaggi. E' arreso ed è stato arrestato, il dirottatore del volo a Egipte era atterrato a Cipro, egiziano, chiedeva di incontrare l'ex moglie e ha finto di avere una cintura esplosiva. L'italiano a bordo racconta l'incubo che paura prima ha liberato gli arabi. I genitori di Giulio Reggeni chiedono verità sulla morte del figlio. Nella conferenza stampa al Senato la madre rivela su di lui torture da nazifascismo, l'ho riconosciuto soltanto dal naso. Il padre si augura notizie entro il 5 aprile quando gli egiziani consegneranno i risultati delle indagini ai magistrati romani altrimenti il governo dovrebbe richiamare l'ambasciatore. Anche qui cerchiamo di fare una mini lettura un po' sarcastica, ironica perché un pazzo che rischia la vita con una cintura esplosiva finta insomma in questo momento storico. Io immagino anche poi il terrore che si è minato nella gente è vero perché con quello che sta succedendo che hanno rischiato l'infarto tutti questi, no? Questo per veder la moglie insomma diciamo pennelliamoci sopra un po' di ironia. Ecco andiamo su altri spazi che molto seri che comunque la fiction la finzione questa volta cinematografica ci offre vediamo di che si tratta. Cosa intendeva il capitano con un avamposto morto? una frontiera che si affaccia sul niente tenente al di là della fortezza c'è un deserto e dopo il nulla il deserto dei tartari lo hanno certamente attraversato secoli fa poi sono scomparsi dopo aver distrutto l'antica città il deserto ha conservato il loro nome ma più la storia è remota più gli uomini la deformano con le leggende e così la verità diventa indecifrabile. Era il deserto dei tartari del 1976 Valerio Zurlini tratto dal romanzo di Dino Buzzati del 40 questo una fortezza che si affaccia sul niente allora davanti al deserto e oggi davanti a palazzi davanti a che cosa abbiamo? Fortezze sul niente? Riusciamo a trovare un un nesso un nesso ma lì il messaggio di questo romanzo è molto affascinante perché è qualcosa a cui tendiamo tutti e che non arriva mai ecco e quindi c'è quest'ansia quest'angoscia che cresce dentro perché vorremmo vorremmo che si che scoppiasse qualcosa che succedesse qualcosa in realtà la vita è ferma immobile questo per quanto riguarda il romanzo ma noi vediamo qui invece che le cose mi pare che siano molto diverse nella realtà diciamo certo però nel romanzo voglio dire questo si aggancia anche a quel senso di infinito di voglia di andare oltre di superare un limite estremo che abbiamo un po' tutti e questo questo si può leggere nel romanzo nel film non so oggi oggi di fronte a quello che vediamo oggi noi insomma è molto diversa la cosa perché vorremmo che il mondo si cambiasse vorremmo che qualcosa migliorasse vorremmo che ma non stiamo aspettando anche noi qualcosa o qualcuno e beh forse sì ma in quel senso sì sicuramente o il nostro è più qualcosa che che cambi un po' che finisca questa spirale no di come si può dire di mancanza di umanità in tutti in tutti i rapporti quindi aspettiamo un valore insomma un valore un valore bravo un valore che purtroppo ci manca ci manca assolutamente e devo dire in questo l'opera che sta facendo Papa Francesco straordinaria perché devo dire lui incontra intercetta veramente ogni tipo di pensiero da quello più razionalista anche quello che non crede perché lui ha un messaggio di grande solidarietà di apertura ma soprattutto senza i paludamenti e questa sua semplicità grande messaggio di testimonianza questa è la grande testimonianza cristiana torniamo sulla realtà perché abbiamo parlato della vicenda di Giulio Reggeni del giallo come viene definito da tutti e vediamo cosa ci dice il nostro Augusto Cantermi che oggi ha seguito la conferenza stampa e ha seguito il caso vediamo sul viso di Giulio ho visto i mali del mondo in una toccante testimonianza la madre del giovane ricercatore italiano torturato ed ucciso in Egitto racconta i drammatici momenti in cui ha riconosciuto il corpo del figlio io su quel viso ho anche visto oltre che il male che in quel momento ho detto qua tutto il male del mondo si è riversato su lui perché perché si è riversato su lui e quindi su quel viso che era diventato piccolo piccolo colori che non vi dico forse l'unica cosa che ho veramente ritrovato di lui ma l'unica è stata la punta del suo naso i genitori di Giulio Reggeni non si vogliono arrendere alle tante bugie che arrivano dal Cairo e sono pronti anche al gesto estremo di pubblicare le foto del corpo martoriato del figlio pur di ottenere la verità tra dei pistaggi e false ricostruzioni infatti dalle autorità egiziane non è arrivato alcun contributo per capire quello che è accaduto alla fine di gennaio a Giulio Reggeni catturato e poi ucciso dopo giorni di torture di certo non sono stati criminali comuni come hanno tentato di far credere finora le autorità egiziane di certo non si tratta di un caso isolato anche perché quello che è successo a Giulio non è un caso isolato come è stato detto dal governo egiziano ultimamente hanno detto perché tanto fragore della stampa per un caso isolato ma cos'è mi sono chiesta ho lavorato con i bambini tanti anni un caso di morbillo per caso anche se da ieri sia il ministro dell'interno sia il procuratore generale iniziano a dare segnali di un cambiamento di rotta il 5 aprile ci sarà a Roma il primo incontro tra emissari della procura del Cairo e quelli di Roma ma se non ci dovessero essere novità positive il presidente della commissione per i diritti umani del senato Luigi Manconi chiede al governo misure forti a cominciare dal richiamare l'ambasciatore italiano al Cairo e inserire l'Egitto nella lista dei paesi non sicuri allora un altro capitolo questa volta della sua storia riguarda perché noi stiamo cercando di dare cenni sull'universo insomma della sua della sua carriera che ha visto punto cinema televisione teatro ecco Streller fa parte del teatro con Relir del 79 no 72 72 allora era l'anno in cui uscì anche le sorelle Materassi infatti il successo si diventò ancora più grande cominciamo allora da Relir vediamo queste immagini è sua o no la mano è la sua signore ma il suo cuore spero non sia nel contenuto ma non ti vado ti ho mai parlato di cose del genere mai mai mio signore spesso però l'ho sentito sostenere la tesi che giunti i figli all'età della ragione i padri invecchiando un padre dovrebbe porsi sotto la tutela del figlio e figlio amministrarne il patrimonio anche qui le chiedo in questo giuchetto molto banale che sto cercando di fare insomma ma Relir dov'è oggi se c'è Relir dappertutto perché i padri i nonni i padri soprattutto che sono spesso abbandonati dai loro figli che li lasciano così la carenza d'affetto verso le persone che si avviano verso una certa età e lo viviamo sempre questo poi per oggi ci sono anche gli esempi fortunati gli esempi bellissimi dove i nonni aiutano in famiglia anche proprio per esempio a pagare i mutui con le pensioni eccetera e questo è un fatto positivo molto bello non giusto però insomma ecco c'è qualcosa che non funziona insomma questa crisi dovrebbe finire lei ha citato poco fa le sorelle materassi allora guardiamo un piccolo estratto delle sorelle materassi tratto dal romanzo di Aldo Palazzeschi vediamo e che che gli era tutto qui il baccano una moto zetta una moto ci mancava che la moto ha avrei fame no mi ho bella mi è stata pronta e la riscaldi in un minuto no grazie ho già mangiato e dove dove ma questa moto chi te l'ha data le porto al caffè signorina allora hai sentito o non hai sentito o non hai sentito eh questa moto dove tu l'ha presa eh allora questo è uno sceneggiato però ricordiamo questo era un modo di raccontare di narrare la realtà che praticamente non esiste più o almeno attraverso questo grande romanzo ma sono morti tutti io guardavo adesso questo è pre-storie ormai sono rimasto solo io veramente diciamo che lei era molto giovane molto più giovane certo e comunque Aldo Palazzeschi questo è un bellissimo romanzo e la storia e la vita raccontata al filtro attraverso il filtro artistico di un grande scrittore ma il racconto attraverso lo sceneggiato di grandi opere quindi quello sceneggiato faceva conoscere dei grandi capolavori assolutamente a tutti quanti e nello stesso tempo era un mezzo che entrava nelle case come no quando uscì Davide Copperfield la gente si mise a leggere perché uscirono altre edizioni anche in libreria e contribuiva anche a una spinta culturale molto importante quando si facevano solo romanzi adesso se ne fanno si sta tornando un po' a quello ma il grosso è adagiato sulla realtà sono queste fiction diciamo realistiche i polizieschi non si contano poi arrivano dall'America e inventano di tutti i colori però chiaramente una volta un peso culturale maggiore c'era e poi erano fatti meglio adesso non perché prostianamente tutto ciò che è passato è più bello ma erano fatti meglio sì diciamo i ritmi un pochino lenti ecco oggi si è acquistato un po' nel ritmo perché allora con la telecamera c'erano gli zoom si aspettava il montaggio era un pochino più lento però si sentiva molto bene la recitazione soprattutto arrivava proprio lo spirito del romanzo veniva tradotto molto bene attraverso gli attori che erano tutti attori comunque di un certo livello allora perché per far quelle cose comunque dovevi avere dovevi essere un professionista vero ma ci servirebbero un po' di quegli sceneggiati anche oggi che dice passiamo alla poesia perché per due motivi uno perché noi abbiamo sempre un video di poesia che cerca di intercettare parti della realtà attraverso appunto la poesia che di solito viene considerata talmente alta da stare nella sua torre d'avorio eccetera e noi cerchiamo di capire quanto può andare a a incastrarsi con la realtà e poi perché riguarda un personaggio molto molto conosciuto un personaggio di una fiction che lei che lei ha interpretato vediamo questo video ho attraversato la piazza di Luzzara fingendo di essere Antonio Ligabue distiamo sei chilometri da Guastalla dove lui si innamorò otto da Gualtieri dove spirò nel 65 sognava di entrare a Gualtieri su un cavallo bianco per umiliare tutti quale feroce necessità di essere amati abbiamo lo vedo raspare in persona sui fianchi degli arginelli addentare il tubero che stride per il terriccio non del tutto tolto se dovessi narrare in una riga la storia di Ligabue direi era meraviglioso come noi Ligabue era un pittore lo diciamo perché ormai forse qualcuno ne ha perso memoria questo era dal poema dedicato a Ligabue di Cesare Zavattini Ligabue che ricordo mi ricordo bellissimo fra l'altro recentemente ci siamo riuniti con Flavio il mio amico Flavio Bucci e a Gualtieri siamo andati perché hanno rievocato un po' la storia di Ligabue attraverso un documentario che hanno fatto autottono molto interessante e così abbiamo ricordato quei momenti molto belli io facevo questo Mazzacurati che è il primo a capire e a scoprire il talento di Ligabue e così insomma è stato molto piacevole molto piacevole e c'era un inverno freddissimo quando giravamo mi ricordo senta sul suo sito compare una anzi compare c'è una la sua voce che racconta questa poesia di madre Teresa di Calcutta la vita è un'opportunità accoglila è un caso la sente sì diciamo che in una trasmissione non mi ricordo bene quale fosse mi hanno dato da leggere questa cosa ma io credo che fosse applausi credo che fosse applausi però di un po' di qualche anno fa però l'ha sentita in maniera mi piaceva molto sì e poi dopo la mia collaboratrice l'ha messa anche sul mio sito come introduzione del sito ecco perché tra le dice la vita è un'opportunità accogli l'ammira la sapore la fanne la fanne realtà e poi chiude dicendo la vita è un'avventura rischiala la vita è la vita difendila che è un po' quello di cui avremmo bisogno oggi cioè difendere la vita c'è la morte che la vediamo ripetuta nei telegiornali delle cose in continuazione la vita la morte procurata la morte violenta la morte no è un è un è un continuo un esplodere di violenza tale che certo si sente questa esigenza assoluta che poi ci vuol così poco basta guardarsi negli occhi dice siamo qua la vita difendiamoci cerchiamo di salvarci di recuperare quello di vero che abbiamo dentro tutti lei in uno spettacolo ha dedicato uno spettacolo a Giacomo Leopardi sì e non solo ma ha detto anche che ha detto nel mio monologo le ansie e i vizi della società di oggi vengono rappresentati anche attraverso leggendo si capiscono meglio leggendo anche Leopardi cioè cosa cosa tiene insieme i giovani di oggi la nostra società con Quello Pardi che per noi ormai è lontanissimo sì l'abbiamo l'abbiamo fatto moltissimo con la regia di Argyro che è su anche la drammaturgia fra l'altro apro una parentesi noi debutteremo al teatro dell'Angelo fra poco 8 di aprile con un altro spettacolo di quel tipo cioè tutto su di me con il leggio ma anche a memoria in questo caso su Pirandello 100.000 uno nessuno la curiosa storia di Luigi Pirandello si chiamerà chiusa la parentesi questo volevo dirlo perché la facciamo allora diciamo che Leopardi oggi i giovani e Leopardi ecco noi l'abbiamo fatto moltissimo per i studenti e non volava una mosca nel senso che veramente lo seguivano con un'intensità incredibile e questo mi ha fatto molto piacere perché insomma è un po' pesantino il plot di solito cercherò di evitarlo parlare di Leopardi ecco per esempio in televisione in Rai ti metti a fare come una volta c'erano delle trasmissioni molto alte che parlavano di letteratura ma poi le hanno cancellate ma non è vero non è vero avrebbero comunque audience secondo me avrebbero certo non delle cose esplosive però sicuramente perché poi incarna una voglia di ribellione che c'è la scopriamo anche nei giovani d'oggi per esempio Leopardi nella sua vita pur essendo indicappato alto 1,43 con tutte le malattie che aveva però era un uomo innamorato della vita questo i giovani lo leggono lo leggono questo perché infatti io sentendo anche il professore eccetera è uno dei poeti più amati italiani quindi vuol dire che interessa prende oltre le poesie oltre il suo pensiero perché lui all'estero è considerato addirittura un politico anzi un filosofo un grande filosofo più che un poeta molto noto è lo Zibaldone esatto in Inghilterra l'hanno tradotto in cinque per essere esaurienti allora lei sa che a fine puntata io di solito leggo una poesia ora non mi azzardo perché c'è lei allora stiamo parlando di Lopardi se gradisce di leggerci una poesia magari che ne so l'infinito per caso così e noi chiudiamo in questo modo noi chiudiamo lo spettacolo di Infinito Giacomo proprio con l'infinito perché proprio la chiusura vicino alla sua morte anche se lui l'ha scritto all'inizio sempre caro mi fu quest'ermo colle e questa siepe che da tanta parte dell'ultimo orizzonte il guardo esclude ma sedendo e mirando in terminati spazi di là da quella e sovromani silenzi e profondissima quiete io nel pensier mi fingo dove per poco il cor non si spaura e come il vento odo stormir fra queste piante io quello infinito silenzio a questa voce vo comparando e mi sovvien l'eterno e le morte stagioni e la presente e viva e il suon di lei così tra quest'immensità sannega il pensier mio e il naufragarme dolce in questo mare grazie a Giuseppe Pambieri noi ci vediamo domani grazie a tutti grazie a tutti Autore dei sovrapposti